La scuola Renzi e tutte le politiche applicate in questi anni ci rendono precari senza futuro Ma se siamo qui oggi in piazza è perché noi in futuro ce ne immaginiamo Se siamo qui oggi è per agire e per dare una risposta a queste politiche di merda e queste riforme che non valgono un cazzo Una risposta sono le occupazioni dagli alloggi tenuti vuoti a fronte dell'emergenza abitativa, dalle famiglie sfrattate e dalle persone lasciate per strada Risposte da parte degli studenti capaci di auto-organizzarsi nelle scuole Risposta da parte dei lavoratori che oggi sono qui con noi per dire no a tutte le ingiustizie di cui siamo protagonisti Risposta da parte dei nostri amici Risposta da parte dei nostri amici Quindi veniamo a casa, veniamo qui sentito l'ente Chiediamo per cortesia di fare la doccia, di asciugare i capelli, di stirare immediatamente perché questo è quello che ci legate quotidianamente Parliamo l'acqua, vogliamo mandare i bambini alla sole perché non abbiamo questo diritto Perché perderci perché? Io sono un lavoratore come lei Io sono un attivante come lei Risposta da parte deiAC da vedere così ragazzi sono arrivati i compagni di Asia Notte per la Casa che sono andati a occupare la sede del PD accogliamoli e lo rimaniamo occupa tutto occupa tutto occupa tutto occupa tutto casa di divina io sono stanco di spaghetti pizza e mandolino voglio un futuro per me mai e se non lo siete non lo capirete mai il bel paese è dove non hai un'altra dignità se non fai parte di una femmina e una mafia ci hanno dato un gioco e cazzo e pensare in silenzio con un po' un po' un po' un po' un po' contare e camminare sa cantare le silevati che marchiamo avanti però è giusto occupare gli spazi e le strutture andiamo avanti se ci unite i compatti adesso li accorgono adesso li godano dicendo che sono l'arca che si voglia rappresentare capoloni che hanno fatto un cazzo fanno sottamento dai cavalli che li sono succeduti non portate avanti una testa serie chiamperà chiamperà subite chiamperà chiamperà voglia di si non sottamento siamo anche in desa piace usare i soldi pubblici per finanziare i campi di calcetto chiamati breveli anche noi li vogliamo indietro i nostri soldi gliela partevano il calcetto ridacce i nostri soldi banca in pesa no expo no expo no expo no expo no expo no expo qui dentro ci sono industriali che stanno che stanno no expo no expo Grazie a tutti